Benvenuti, benvenuti a tutti, grazie per essere qui alla quinta ed ultima puntata del nostro ciclo di conferenze virtuali e naturalmente il tema continua a essere quattro elementi. Abbiamo fatto un'immersione all'inizio, nella prima puntata, su che cosa significa mondo, natura e uomo e poi abbiamo affrontato piano piano tutti quanti gli elementi che compongono il creato. Oggi è l'ultima puntata, è dedicata alla terra ed è forse l'elemento più importante e quello un po' meno rappresentato nell'arte. Mi fa piacere avere con noi questa sera, oltre alla nostra amata e stimata Ludovica, con la quale affronteremo un argomento molto interessante, ma sarà lei poi a raccontarvelo. Il primo oratore di questa sera è un mio caro amico, che vi presenterò poi più tardi, che è Simone Mattiello della Galleria Bertola. Come vedete siamo tre giovani, giovani si fa per dire, almeno nel caso mio e di Simone, però tutti under 40. Fa piacere perché l'ultima puntata è un piccolo regalo che le giovani forse vogliono fare alla grande tradizione di questa associazione. Simone Mattiello affronterà il tema della bellezza che si libera dalla materia, che è un tema molto interessante, legato anche a certe produzioni piemontesi, in un piccolo periodo di tempo, ma un periodo di tempo chiave per comprendere certe soluzioni all'interno dell'arte piemontese. Ludovica ci porterà invece alle pendici del Vesuvio, con una operazione Vesuvio, ed io per ultimo affronterò il tema dei paesaggi composti dalla roccia fra la fine del Quattrocento e il principio del Cinquecento. Sarà, come vi ho detto, una puntata molto interessante e quindi volevo presentarvi questo nostro ospite, che mi freggio di chiamare amico. Simone Mattiello è innanzitutto uno storico dell'arte, ha approfondito a lungo tematiche sia barocche che della pittura e dell'arte piemontese all'Università di Torino e poi un anno di specializzazione con borsa di studio a Firenze, alla Fondazione Longhi. Quindi, come dire, nessuno più titolato di lui per affrontare alcune tematiche molto importanti. Adesso il nostro Simone ha preso in mano le redini, il timone di una grande attività di famiglia e quindi è da ormai pochi mesi proprietario e timoniere della Galleria Bertola di Torino. Quindi si occupa completamente a 360 gradi di arte nell'antiquariato e nel modernariato. Mi fa piacere allora presentarvelo e lascio a lui la parola. Interrompo la mia condivisione per permettere a Simone di potersi collegare a sua volta. Ringrazio Edoardo per avermi chiesto di intervenire con questa breve relazione nel vostro ciclo di incontri intitolato Uomo e Natura e incentrato sui quattro elementi nell'arte e che appunto si conclude questa sera con l'elemento certamente più materiale, la terra. Ho pensato di parlarvi a questo proposito di un'opera il cui titolo mi sembra possa racchiudere questi concetti, ovvero la bellezza liberata dalla materia, anche conosciuta come l'Alpe. Si tratta di un monumento dedicato al pittore Giovanni Segantini, realizzato da uno dei migliori scultori italiani del primo novecento, Leonardo Bistolfi, nato a Casale Monferrato il 15 marzo del 1859 e morto a la loggia il 3 settembre del 1933. La bellezza liberata dalla materia è un capolavoro del movimento simbolista e nasce come monumento appunto per celebrare Segantini ed è oggi collocato di fronte al suo mausoleo a Maloggia in Svizzera. Giovanni Segantini è stato uno dei massimi esponenti della corrente pittorica divisionista, morto prematuramente nel settembre del 1899 a Schalberg in Svizzera appunto, mentre era intento a dipingere il trittico della natura, oggi conservato al Museo Segantini di St. Moritz. Le tre tele erano intese dal maestro come suo vero testamento spirituale di un uomo nato in una vallata alpina e vissuto tra le sue cime, che l'artista avrebbe voluto portare all'esposizione internazionale di Parigi del 1900 come magnifica rappresentazione della sua amata Engadina. Nonostante i tre anni di lavoro febbrile, l'opera rimase incompiuta per la sua morte a soli 41 anni. Realizzata con la tecnica divisionista, le tre grandi teme, tele sul tema della vita, la natura e la morte hanno come sfondo rispettivamente lo scenario montano di Soglio, il crepuscolo dello Schalberg e il paesaggio invernale presso il passo di Maloggia, non lontano da dove verrà collocato il monumento di Bistolfi. Il profondo dolore provocato dalla prematura e drammatica perdita di un pittore così capace, all'apice delle sue potenzialità espressive, spinse intellettuali come il critico Ugo Ietti a promuovere dalle pagine del Corriere della Sera una sottoscrizione per un monumento da collocare sulla sua tomba. La scelta cadde naturalmente su Bistolfi, poiché erano ben noti i suoi rapporti di reciproca stima tra i due artisti. La scultura ebbe una lunga gestazione prima di giungere alla sua versione definitiva. Gli storici dell'arte hanno documentato ben 18 studi preparatori, modelli in gesto, bozzetti della testa o del busto in marmo di Carrara e cinque copie in bronzo tratte da modelli specifici, tutte opere collocabili cronologicamente tra il 1900 e il 1906, data della consegna del monumento. Si possono ad esempio ricordare i mezzi busti oggi conservati a Milano presso la Galleria d'Arte Moderna e a Genova nella raccolta frugona e le prove a figura intera custodite a Roma presso la Galleria d'Arte Moderna e quella più completa che vedete in basso e invece quelle due in alto sono conservate a Casale Monferrato nella gipsoteca Bistolfi. La statua rappresenta una giovane figura femminile che emerge dalla roccia da cui sembra essere trattenuta. Un modello stilistico prossimo alla poetica michelangiolesca della scultura liberata dal marmo da cui il corpo emerge nudo in tutta la sua pura e assoluta bellezza naturale. La testa e il volto sono certamente la parte del monumento cui Bistolfi dedicò il suo maggiore impegno. Un volto di donna quasi frontale con una leggera torsione verso sinistra e gli occhi chiusi. Il sorriso appena accennato e i capelli che come una specie di aura si confondono con il materiale grezzo retrostante. Un volto che è appunto di una giovane donna in atteggiamento sognante ma fiero che rappresenta efficacemente un'idea di grazia che il caratteristico appunto biancore del marmo riesce a circonfondere di una splendida lucentezza. Lo stesso Bistolfi in una lettera così ne parla. La mia povera figura chi ho con amoroso e faticato sforzo vollibalsante dalla roccia come d'impeto del desiderio della bellezza. L'anima non moritura di Giovanni Segantini lanciato verso il sogno dei suoi grandi orizzonti. Questa è una lettera di Bistolfi a Brentani del 18 agosto del 1908. Come ho evidenziato il principale riferimento di Bistolfi è a Michelangelo Buonarroti e ai suoi prigioni, un gruppo di sei statue che l'artista eseguì per la tomba di Giulio II del Papa. Due di essi del 1513 circa sono pressoché finiti e si trovano oggi all'Uvro di Parigi mentre gli altri quattro databili tra la fine degli anni venti diciamo del del Cinquecento sono vistosamente non finiti e sono conservati nelle gallerie dell'Accademia di Firenze. Pare che fin dal primo progetto per la tomba di Giulio II, un progetto del 1505, nel regista inferiore fossero previsti una serie appunto di prigioni cioè di statua a grandezza superiore al naturale di figure incatenate in varie pose appunto come prigionieri che dovevano inizialmente essere 16 o 20 e poi sono state via via ridotte come numero fino ad essere definitivamente eliminate dal progetto del della tomba di Papa Giulio II nel 1542. Il modello ispiratore di Bistolfi sono probabilmente i prigioni fiorentini che sono lo schiavo giovane, lo schiavo barbuto, l'atlante e lo schiavo che si ridesta compiuti mentre il maestro è impiegato a Firenze in San Lorenzo. Le statue rimasero nella bottega dell'artista fino al 1564 quando suo nipote Leonardo Buonarroti li donò al Gran Duca Cosimo I che poi appunto gli collocò ai quattro angoli della grotta del Buontalenti. Da lì vennero poi rimossi all'inizio del Novecento per confluire nelle raccolte della Galleria dell'Accademia di Firenze. Il significato delle figure era probabilmente legato al motivo dei cattivi dell'arte romana. Da un punto di vista assilistico si rifanno alla statuaria antica e in particolare a quella ellenistica come il gruppo dell'Aocolonte scoperto proprio nel 1506 ma anche appunto alle raffigurazioni che si potevano trovare sugli archi di trionfo di Roma. I prigioni fiorentini sono particolarmente celebri per il loro stato non finito da cui traggono una straordinaria energia come se fossero colti nell'atto primordiale di liberarsi dal carcere della Pietra Grezza in un'epica lotta contro il caos. I prigioni fiorentini in diversi stati di finitura permettono inoltre di approfondire la tecnica scultore usata da Michelangelo che avviava il blocco tirando appunto innanzitutto la figura, la veduta principale della figura e poi la completava man mano appunto scalpellando il materiale circostante. L'ispirazione di Bistolfi per il tema della bellezza che emerge dalla materia è fortemente influenzata da questi illustri precedenti ma deriva forse anche dalla sua pratica artistica quotidiana in particolare dall'atto creativo finale della tecnica della scultura in bronzo detta della fusione acera persa che lui conosceva e praticava appunto normalmente nel suo mestiere quando ovvero lo scultore libera la sua creazione spaccando il guscio di argilla che racchiude la fusione. Questa antichissima tecnica prevede infatti la creazione di un modello in creta inizialmente rinforzato da un'armatura interna che viene successivamente ricoperto di cera. La cera a sua volta viene rivestita da un involucro di argilla in cui vengono aperti diversi fori uno in alto per la colatura del bronzo fuso e altri inferiori per lo sfogo dei vapori e della cera che con il carone gradualmente si scioglie per lasciare appunto lo spazio al metallo. Al termine del necessario processo di raffreddamento quindi Bissolfi poteva ogni volta trarre dal grezzo rivestimento terroso la sua opera finita con un effetto visivamente paragonabile al suo magnifico monumento dedicato a Segantini. La vasta eco che questa fondamentale opera di Bissolfi lasciò si risente appunto sia sui suoi allievi diretti che sui suoi scultori appunto contemporanei e successivi. Tra questi si può citare in particolare César Santiano, un valente artista argentino nato a Buenos Aires nel 1886. Nel confronto diretto con il suo maestro Santiano non si lascia però intimorire fa emergere, riesce a far emergere tutta la sua diversa forza poetica ed espressiva. Lo scultore aveva esordito in Argentina come scalpellino da giovane, poi essendo fisicamente molto dotato si era dedicato ai giochi ginnastici diventando un maestro di esercizi fisici e anche un lottatore di grido trovando impiego in un circo della sua città natale, Buenos Aires. César coltivò la passione per la scultura inizialmente nel tempo libero e studiò disegno con Marino Picchioni. Realizzò così le sue prime opere che ottennero da subito un grandissimo successo di pubblico in Argentina e grazie a queste ottenne dal governo argentino numerose commissioni e anche la possibilità di ottenere una generosa borsa di studio che però Santiano rifiutò perché aveva già deciso di portarsi in Italia prima a Roma poi a Napoli e poi a Torino attratto proprio dalla fama di Bistolfi, la fama di scultura e dell'atelier di Bistolfi. La potente fisicità di Santiano appare chiaramente dalle due sculture in bronzo datate entrambe 1916 che qui vi presento e che fanno parte tra l'altro della collezione della nostra galleria. Nelle due opere si può sicuramente notare come l'artista sudamericano al di là del chiaro riferimento all'Alpe di Bistolfi abbia voluto rimarcare la sua profonda distanza dal più pacato spirito simbolista del maestro. Dalle due sculture emerge anche il drammatico amore di Santiano che proprio in quegli anni si stava consumando per la modella e attrice del cinema muto di origine polacche Elena Makowska che era giunta a Torino nel 1915 per lavorare con la società cinematografica Ambrosio. Cesar elesse da subito Elena come sua muse ispiratrice e la raffigurò in numerose opere tra cui anche le nostre quelle che avete visto dell'Alpe della bellezza che si libera dalla materia opere che sono sempre connotate da una travolgente tensione erotica. L'epilogo di quell'amore dell'amore tra Santiano e Elena Makowska fu un amore contrastato perché Santiano era sposato già da diversi anni fu però drammatico. L'attrice nel 1917 lascia Torino per proseguire la sua brillante carriera e l'artista rimasto solo nel 1919 si toglierà la vita. Le opere di Santiano sono anche segnate da una diversa impronta filosofica influenzata dalle opere del medico e filosofo tedesco Ludwig Buchner autore nel 1855 del saggio Forza e Materia in cui l'autore espose il suo materialismo evoluzionistico in cui la materia è definita quale fondamento originario di ogni esistenza. Forza e Materia non è solo il titolo di quest'opera di Buchner ma è anche non a caso il titolo di questa straordinaria opera di Santiano che realizzò prima in marmo nel 1913 e poi che riprodusse in bronzo nel 1918 l'esemplare che vedete qui. Io non mi dilungherei più di tanto e vorrei chiudere appunto questo mio intervento con questa straordinaria scultura di Santiano con una enorme potenza visiva in cui emerge ancora una volta tutta la sua poetica drammatica del conflitto tra l'artista e la materia, un conflitto creativo che in senso più ampio simboleggia anche il disperato tentativo compiuto dall'umanità di emanciparsi con lo spirito e con l'intelletto della sua fisicità che tuttavia ineluttabilmente la avvolge e la reclama come parte di sé. Grazie. Grazie, grazie Simone. Simone Mattiello ci ha illustrato due o tre addirittura autori e due modi di vedere l'arte stessa e averci anche presentato Santiano che forse è uno di quegli autori poco conosciuti ma che certamente hanno una grande storia da raccontare sia nelle proprie opere che nella propria vita. Purtroppo è muore giovane chi è caro agli dèi, questo è giusto giusto ricordare. Con piacere, visto che Ludovica è sempre attivissima, volevo ringraziarla prima che inizi la sua chiacchierata perché so che era piena di impegni e ugualmente ha detto di sì al mio invito e quindi volevo veramente ringraziarla perché ci tenevo moltissimo che ci fosse non solo la sua voce ma fosse presente anche la voce dell'arte moderna e contemporanea in questa nostra ultima chiacchierata. Grazie a voi. Oggi il mio intervento sarà forse un pochino più breve del solito ma forse sarete anche contenti che vi annoio un po' meno con la mia arte contemporanea. Però è stato... ho scelto un argomento in realtà su cui c'è poco materiale diciamo online per cui poi mi sono andata a infilare in una mancanza di materiale generale. Oggi ho deciso appunto di parlarvi di questa operazione Vesuvio e quindi di portarvi appunto sul Vesuvio proprio. Si tratta di un'operazione che vide la luce fra 1972 e 1973 e protagonista della vicenda fu Pierre Restany che è un critico d'arte francese di fondamentale importanza all'interno dell'arte contemporanea perché teorizzò tutta una serie di movimenti d'arte contemporanea fra anni 50 e anni 70 e quindi in quel periodo fu appunto fondamentale. Il 1900 decide appunto di dare vita a questa operazione. L'anno è il 1972, un anno molto particolare per Napoli perché è l'anno in cui si tengono le elezioni politiche e già all'epoca il Vesuvio era in qualche modo entrato proprio nel dibattito politico perché era già molto forte l'idea che ci fosse uno sfruttamento del territorio del Vesuvio e quindi molti progetti politici continuavano in questa direzione, in un'idea di sfruttamento edilizio del territorio e altri progetti invece cercavano nuove soluzioni proprio per proteggere questo spazio. Pierre Stany si inserisce in questo clima politico creando diciamo una specie di falsa campagna elettorale al cui centro c'è proprio l'idea di convertire il Vesuvio in un parco culturale internazionale, in uno spazio aperto alle proposte provenienti da artisti internazionali con anche il fine proprio di intanto ostacolare in qualche modo questo abuso edilizio e dall'altra parte cercare un nuovo accordo fra uomo e natura e vi ho messo qui uno spezzone appunto di questa specie di manifesto, locandina che appunto faceva parte di questa idea di campagna elettorale in cui si parla di questo nuovo parco culturale internazionale, la cima del Vesuvio terra di tutti e di nessuno e lo spazio ideale di una ricerca e una sperimentazione libera nei diversi settori del linguaggio, un parco culturale internazionale aperto ad ogni intervento artistico sulla natura. Per capire bene questa operazione devo un attimo contestualizzarvi diciamo il periodo storico. Ci troviamo infatti negli anni settanta in un momento in cui una delle principali correnti artistiche è la land art di cui forse avrete sentito parlare. Nasce in particolare negli Stati Uniti nel 1967 e si propone appunto di abbandonare gli strumenti diciamo tradizionali, artistici, quindi pittura, sculture eccetera eccetera per invece proporre un intervento diretto sull'ambiente naturale. Non c'era diciamo nessuna idea almeno nel movimento americano di portare anche avanti delle istanze ecologiche. Cioè era più qui, si ragionava su questi grandi interventi di grandi dimensioni in cui c'era una forte contrapposizione anche fra uomo e natura, no? Quindi anche l'idea di vedere quali fossero i limiti umani nei confronti della natura e anche l'idea di in qualche modo cercare di uscire dalle logiche di mercato. Perché negli anni settanta, come abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di artisti, ma negli anni settanta si cominciava anche a delineare in modo più preciso quel sistema dell'arte contemporanea in cui il mercato comincia ad avere un ruolo fondamentale e per alcuni artisti ciò era un po' in qualche modo claustrofobico. Per cui diciamo che se il tuo gesto artistico è quello di scavare un nuovo canyon oppure di creare una spirale all'interno di un lago diventa difficile, diciamo, da parte dei consumatori di... da parte dei collezionisti di consumare la tua opera d'arte. Quindi c'era l'idea in qualche modo di uscire dallo spazio del white cube e della galleria, anche se poi in realtà con la documentazione fotografica ovviamente si creò anche un mercato per la land art, ma questo per noi non è fondamentale in questo caso. Comunque negli stessi anni, quindi negli anni settanta, la land art arriva anche in Europa, ma cambia un po' i connotati perché c'è un'idea di interventi sulla natura molto più più intima, quindi le dimensioni sono minori, c'è l'idea di proporre una nuova relazione fra uomo e natura, ma che non sia così sfidante come invece veniva portata avanti dagli americani e in alcuni casi subentra anche in molto... in formato molto minore comunque un'idea anche di porsi delle domande ecologiche rispetto all'ambiente e alla natura. Per cui il progetto di Restani in qualche modo si inseriva perfettamente in una logica artistica europea che cominciava a essere ben delineata. E Restani lancia appunto questo appello, quindi l'idea di creare questo parco culturale internazionale e riceve diciamo progetti da tutte le parti del mondo. Però diciamolo subito, riceve solo progetti, cioè verranno poi come vedremo adesso create questi tre momenti espositivi fra 1972 e 1973, ma che vedranno per lo più l'esposizione appunto di ipotesi e di progetti. Cioè poi diciamo che nel concreto non venne fatto nulla, ma anche perché vedremo poi la natura di questi progetti e diciamo che volevano più che altro suscitare un dibattito, più che cambiare in modo pratico le cose. Per cui appunto come vi ho detto vennero fatte tre esposizioni all'interno della galleria al centro di Dina Carola a Napoli fra 1972 e 1973 e questi progetti vennero divisi per provenienza geografica. Quindi la prima mostra presentava il lavoro di artiste e artisti europei, la seconda i progetti provenienti dal Giappone e l'ultima mostra, i progetti provenienti dall'America. E qui vi ho messo ad esempio, ho trovato questa, queste due pagine dal catalogo diciamo della prima mostra, quindi quella dei progetti europei e volevo, vabbè, le potete leggere anche voi, però volevo farvi vedere un po' la natura e in alcuni casi proprio assurda di questi progetti o comunque non proprio solamente ideale e assolutamente non realmente progettuale. Quindi ad esempio abbiamo Costa Karaalios, vabbè la mia pronuncia di tutti questi nomi ovviamente sarà sempre sbagliata, comunque proposta per un doppio colosseo da costruirsi sulla zona vesuviana destinata al Parco Culturale Internazionale. I due elementi sono collegati da un ponte in metallo, le cui strutture sono ricoperte di materiale plastico illuminate all'interno. L'aggetto sarà così visibile da lontano. Oppure ancora Bozem dall'Olanda, cocktail Vesuvio. Gli ingredienti sono segnati con le relative dosi sul progetto. Bozem suggerisce di usare e diffondere questo cocktail nella città di Napoli, quindi addirittura non c'entra proprio nulla il territorio in sé del cono vulcanico. O ancora Francesco Bocola, progetto per l'installazione sul ciglio del cratere di un faro il cui raggio si sposta da est a ovest tracciando un semicerchio nel cielo. O ancora, vabbè, Armando Marocco, rottami di automobili vengono eruttati dal Vesuvio formando grappoli dal cratere. E poi ce n'era ancora un altro che, vabbè, Corrado Laudisio, il Vesuvio come una caffetteria, che sarebbe stato interessante capire come. Di sicuro non ci sarebbero stati problemi di bevande, anzi no, ci sarebbero stati. Oppure ancora William Xerra, sempre dall'Italia, esplosione del cratere fumata colorata e uscita dal cratere di nuovo di un'area mobile con la scritta Operazione Vesuvio. Quindi c'era davvero di tutto e nessuno di questi artisti si proponeva realmente di cambiare la faccia di questo territorio. Non era quello l'intento, ma era proprio quello di suscitare anche proprio nei napoletani un'idea di come usare questo territorio, se continuare su questa via dello sfruttamento proprio edilizio, anche impazzito, senza un progetto urbanistico, o se pensare di renderlo anche solamente l'idea di creare un parco che fosse a disposizione di tutti. Fra i progetti diciamo che poi ho trovato anche che avessero una loro forma concreta, quindi che non fossero proprio solamente pagine di bozzetti eccetera eccetera, c'è questa Vesuvio in valigia di Giannetto Bravi, che è un artista italiano che nasce a Tripoli nel 1938 e muore, è morto nel 2013 a Cislago e per l'operazione Vesuvio l'artista aveva proposto l'inballeggiamento metaforico del cono vulcanico al fine di preservarlo dalla speculazione edilizia imperante. Quindi l'artista inviava una serie di cartoline, normali cartoline postali, con indicato sul retro il luogo, le coordinate proprio del luogo dove il destinatario della cartolina doveva andare a prelevare un pezzo di Vesuvio. Questa persona doveva poi appunto andare a prendere questa roccia, questo pezzetto di pietra diciamo e poi metterlo all'interno di questa valigetta in cartone pressato e serigrafata che aveva proprio la funzione di conservare e proteggere le pietre che venivano sottratte dal territorio. Questo perché Bravi diceva in questo periodo diciamo il Vesuvio non è al sicuro, il suo territorio non è al sicuro, quindi io decido in qualche modo di immobilizzare la sua natura e di preservarla per tempi migliori. Il numero di valigette andava da, erano tutte numerate, andavano diciamo teoricamente dall'uno fino all'infinito, quindi sottolineando che questa operazione poteva essere continuata davvero fino a eliminare completamente il Vesuvio per poi ricrearlo in un momento di clima politico più favorevole diciamo alla stessa salvaguardia del vulcano. Per cui vedete che in alcuni casi per alcuni artisti era più l'idea anche di giocare con la fantasia e fare delle proposte che proprio erano solamente ardite e volevano anche un po' divertire il pubblico. Per altri artisti, forse anche quelli più legati al territorio italiano, diventava anche una questione politica, quindi quella di riflettere su come stava cambiando l'urbanistica e la geologia dei luoghi. Mi dispiace che in realtà questo è l'unico diciamo progetto che sono riuscita a trovarvi, però queste pagine appunto di progetti sono disponibili online per cui se vi divertono o se volete prendere ispirazione le potete trovare, le potete studiare con tutta calma e niente quindi concludo qui e spero di aver almeno sollevato qualche interesse, qualche divertimento ecco. Grazie, grazie Ludovica. Sicuramente interesse e perché no, fare una nostra operazione musine non sarebbe male, insomma, trasportare un pezzo del musine da qualche parte, non sarebbe male. Ti ringraziamo moltissimo perché hai fatto anche un ottimo lavoro di archivio e di ricerca che ti avrà anche sottratto tempo. Ti ringraziamo tantissimo, grazie Ludovic. Tocca a me per raccontare e presentarvi alcune riflessioni che ho elaborato a riguardo del paesaggio nella pittura del tardo 400 e del primo 500 in Italia. Le mie riflessioni partono da una meravigliosa veduta di Antonello da Messina su una tavola datata e firmata al 1475 ed ora conservata ad Ambersa. Non a caso è conservata ad Ambersa perché come sapete Antonello da Messina rielabora alcune grandi innovazioni piambinghe per trasportarle poi in Italia e a lui si deve una vera propria rivoluzione in Italia, sia artistica, quindi stilistica in un certo senso, sia proprio della materia stessa che compone la pittura. Infatti Antonello da Messina porterà in Italia, come sapete, l'olio, la pittura su tavola grazie all'olio. E questa è una delle meravigliose piccole meraviglie del nostro Antonello da Messina che ci tiene non solo a... che ci tiene proprio a datarla al 1475, ovvero uno dei suoi momenti della massima maturità. È proprio grazie a questa sua maturità che riesce a donarci un paesaggio roccioso composto da montagne che si immergono nel mare e grazie ad alcuni studi orografici, e questa è la cosa interessante, è che Antonello riesce a rendere talmente in modo perfetto, preciso, i più piccoli particolari, che alcuni studiosi di montagne, di orografia, sono riusciti a individuare all'interno di questa veduta proprio lo stretto di Messina. È probabilmente una veduta dello stretto di Messina dalla parte siciliana verso il mare che lo separa dalla Calabria, proprio alla foce della valle del torrente del Camaro. È interessante perché Antonello ci regala da una parte una visione di un territorio libero, di un territorio non coltivato, di un territorio quasi selvaggio. Invece sul fronte, sul primo piano, proprio sotto alla grande croce che fa un po' da spartiacque all'interno del dipinto. Vedete sotto si alternano rocce, rocce quasi vulcaniche, rocce dure, rocce quasi desertiche, con i teschi. Li vedete? Quasi sembra impossibile riconoscere se si tratta di sassi o di teschi, quasi a raccontarci una natura tanto selvaggia da poter essere anche portatrice di morte. Sono molti in realtà i simboli all'interno di questo racconto, perché per esempio dai teschi escono delle serpi, che sono classico simbolo demoniaco, e così come la civetta in primo piano, che è un classico del mondo, della rappresentazione demoniaca. Qui un primo piano, sempre di quello che vi raccontavo, con questi piccoli personaggi che sembrano abitare in una valle incantata, sembrano abitare in una valle sì rocciosa, ma che porta all'acqua, quindi alla salvezza. Nello stesso anno il nostro Antonello da Messina firma e data nuovamente al 1475 questa meravigliosa crocifissione, che poco cambia rispetto a quella precedente, eppure lo sfondo cambia totalmente. lo sfondo qui è molto più fiammingo, in un certo senso, con delle costruzioni che chiudono lo sguardo, un piccolo lago laggiù o un torrente, eppure vedete che sono cambiate proprio le sensazioni di Antonello stesso nei confronti di quelle rocce che prima abbiamo visto molto asciutte, molto desertiche. Qui il mondo della natura, qui gli alberi hanno preso il possesso di ciò che vediamo, è forse una natura più addomesticata addirittura, è forse una natura che ci spaventa di meno. Curiosa la posa dei due dolenti sotto di Giovanni e della Vergine. La Vergine seduta addirittura con le gambe incrociate, sembrano aumentare maggiormente una sorta di cerchio che si compone fra la figura del Cristo appeso, quindi nel senso verticale, e invece loro due che sembrano chiudere come se fosse un semicerchio, ancora di più la composizione. È una composizione molto nota, eppure molto studiata, molto fiamminga in certo senso. Il, il, la vivacità del territorio che diventa roccia, del paesaggio che diventa roccia, certamente si deve, si deve rispecchiare in Mantegna. Mantegna è un pittore, conoscete bene, l'abbiamo visto insieme a Mantua, l'abbiamo conosciuto anche in altre occasioni. Mantegna è il massimo esponente di questo momento chiave alla metà del Quattrocento, dove la natura diventa parte integrante del, dello spettacolo dell'arte. Lo spettacolo dell'arte in questo caso è una resurrezione, eppure una resurrezione che si svolge all'interno di una grotta, di una grotta che viene levigata, vedete, viene levigata dal vento, dagli agenti atmosferici, ed è una grande cassa di risonanza per tutto ciò che accade al suo interno. E diventa un enorme cono, cono che cattura la nostra attenzione. Il Cristo non solo si erge al centro, eppure viene amplificato da questa costruzione che sembra quasi una navicella spaziale, sembra quasi un luogo che non è un luogo perché è inventato. E al suo fianco, a destra, a sinistra, nascono degli arbusti, nascono delle piante, come significare proprio che sulla roccia, che è così difficile, che è così arida, che è così asciutta, può nascere la vita. Ed è una vita, vedete, florida, forte, che resiste addirittura alle intemperie. La resurrezione di Cristo viene amplificata anche dal paesaggio che gli sta intorno, e questo paesaggio è un trionfo della vita sulla morte. Altro racconto qui di Giovanni Bellini, e vedrete che le due storie si incontreranno spesso in questa breve mia presentazione, perché, come sapete, non so se lo sapete, Bellini e Mantegna erano imparentati fra di loro. Quindi non era solamente un sodalizio artistico, ma era anche un sodalizio familiare. È chiaro che entrambi vengono a conoscenza l'uno della poetica dell'altro e certamente si influenzeranno a vicenda. Il nostro Bellini, guardate che meraviglia, la National Gallery, ci racconta in una piccolissima tavoletta, quasi alla maniera di Antonello, un paesaggio stupendo, un paesaggio anche questo irto di, come dire, di rocce, di formazioni rocciose, eppure la natura, l'uomo, all'interno della roccia sembra coesistere. Anzi, in Bellini addirittura il passo successivo, in Bellini, l'uomo sembra diventare di roccia. Mi spiego meglio. In questa risoluzione stupenda della collina che va verso il cielo, respira verso il cielo, ecco, guardate che questo paese diventa a sua volta una roccia e tutti i richiami di questo mondo fatto di minerali diventa, a propria volta, sia che sia umano, sia che sia di formazione naturale, diventano una medesima cosa, un respiro della medesima arte del nostro Bellini. Guardate di nuovo dei sentieri che tagliano queste colline e ci fanno intravedere ancora delle rocce, oppure questo ponticello che sembra fatto anche lui di roccia, scavato nella roccia e porta naturalmente dall'altra parte. Torniamo su Mantegna, questa è un'opera meravigliosa custodita a Louvre, e vedete che Mantegna immagina una crocifissione come quella di Antonello inserita proprio all'interno di un grande, grande racconto di rocce, di paesaggi. Ci fanno notare gli storici dell'arte che volutamente Mantegna divide con la figura del Cristo la composizione a metà. Sulla sinistra ci sono coloro che si salvano. Vedete, c'è il ladrone che ha capito i suoi peccati ed è pronto a redimersi, così come il grande gruppo delle piedonne con il nostro San Giovanni. A sinistra una città, che probabilmente è il Gerusalemme, custodita all'interno di mura che sono di roccia, oppure addirittura, guardate questo costone, questo grande canyon che sembra proprio proteggere una città che ormai ha conosciuto il Cristo, ha conosciuto la salvezza ed è pronta a redimersi. Vedete poi la figura del Cristo come vi raccontavo e sulla destra invece coloro che non hanno creduto, coloro che non hanno percepito la grandezza di quest'uomo. Vedete i soldati che giocano le vesti di Cristo, ha il dadi, i centurioni e il cattivo ladrone. Quello alle spalle dei non redenti, di coloro che non si salveranno, è uno scorcio aspro, è uno scorcio duro, è desertico. Da una parte vedete filari di alberi da frutto, luoghi dove la natura si riprende, è florida. Dietro ai ladroni invece è tutto asciutto, è tutto secco, non c'è vita perché non c'è speranza. È la speranza del Cristo salva chi vuole essere salvato, mentre dall'altra parte la durezza dei loro cuori è rispecchiata da questa scelta cromatica e da questa scelta paesaggistica del nostro Mantegno. Stesso discorso andrebbe fatto sempre per Bellini e vedete che i due si rincorrono e parlano la stessa lingua, non c'è poco da aggiungere, se non di nuovo questa figura del Cristo è molto più statuario perché Bellini aveva un pennello molto più attento a certe soluzioni cromatiche e soprattutto a certi, a certe dimensioni nello spazio, vedete che le figure dei Dolenti qui sotto sono panneggiate meravigliosamente e tutto in un paesaggio, questa volta addomesticato con questa enorme fortezza che domina gli elementi, domina il mare, il fiume e qui di nuovo la vegetazione che torna a splendere. Vedete che il nostro Bellini lavorerà sempre su queste tonalità, questo è uno dei dipinti maggiormente conosciuti di Bellini conservato agli uffizi eppure molto molto studiato proprio perché sembra un'allegoria sacra, sembra una sacra conversazione eppure non si capisce ogni simbolo allegorico all'interno di questa scena e vedete questi sono certamente due santi, Paolo e Pietro, la Madonna in trono eppure ci sono figure sullo sfondo, c'è un uomo inserito all'interno di una caverna, insomma tanti piccoli quesiti che per ora non riusciamo ancora a capire. Eppure vedete che Bellini ritorna sulle tematiche, questo è una visione solo della parte del paesaggio, vedete come Bellini ritorna su sensazioni che appartengono a Mantegna eppure qui sembra già parlare la stessa lingua invece di Antonello da Messina. Vedete tre grandi personalità del nord Italia che parlano la lingua delle rocce in un certo senso e il paesaggio roccia diventa parte fondamentale della narrazione stessa. Noi non possiamo prescindere dal da cogliere certi aspetti delle rocce, certi aspetti delle montagne, certi aspetti della natura che in questo momento del 400 fino al 500 diventa parte integrante della narrazione. L'ultimo a chiudere questo meraviglioso panorama ma dopo vi racconto ancora un paio di cose è certamente Giorgione nell'adorazione dei pastori, vedete che ancora all'altezza del 1500-1505 in ambito veneto quindi proprio a seguire a ruota le grandi rivoluzioni di Bellini e di Antonello da Messina quando è a Venezia, vedete che la natura rocciosa, la terra diventa sempre parte fondamentale di questo enorme grande racconto. Da Bellini in poi, da Antonello da Messina in poi, il paesaggio si può dire che sia un personaggio vero e proprio all'interno della grande pittura rinascimentale italiana. Ma parlando di rocce non si può che affrontare un grande tema che è quello della Madonna delle rocce di Leonardo da Vinci nelle sue due versioni. Non voglio rubarvi che tempo perché ci sarebbe da parlarne veramente fare una puntata solo su queste due opere. Volevo iniziare da questo paesaggio con fiume e questo è uno dei più famosi disegni del nostro Leonardo da Vinci conservato alla Galleria degli Uffizi e vedete che Leonardo, a differenza di chi lo precedeva, lavora in un certo senso in plein air, anticipa certe soluzioni che poi arriveranno con gli impressionisti. Eppure il nostro Leonardo proprio ha la necessità, la voglia di avvicinarsi alla natura e di raccontarla. Lui era anche un fine botanico, era un conoscitore delle rocce, dei minerali e qui in questa piccolissima veduta è 19x28 proprio piccolina eppure riesce a raccontarci tutti i particolari di un paesaggio che ha davanti. Vi faccio vedere prima però questa quest'opera del 1472-75 agli Uffizi ed è l'Annunciazione. Mi direte Edoardo si è sbagliato a mettere la diapositiva perché qui non c'è alcun paesaggio. Eppure il paesaggio entra, entra nella narrazione, è questo piccolo racconto, questa veduta di porto con le montagne che entrano all'interno del mare. È un racconto meraviglioso, un racconto finissimo, un racconto in punta di pennello che il nostro Leonardo da Vinci ci racconta. Guardate, riesce addirittura a raccontare le torri sul mare e le piccole casette che si perdono sulle montagne. Per chi se lo domandasse, è qui dietro il racconto, è proprio lì dietro. E in questo racconto lenticolare, quasi una lente di ingrandimento su ciò che significa paesaggio per il nostro Leonardo da Vinci che è inserita a pieno la Madonna delle Rocce. Come sapete ne esistono due versioni, non voglio raccontarla poi più di tanto, la prima è quella sinistra oggi conservata a Louvre e la seconda è certamente quella di destra conservata alla National Gallery di Londra. La prima viene richiesta al nostro Leonardo che è a Milano da solo un anno, viene richiesta dalla confraternita dell'Immacolata Concezione per la chiesa di San Francesco Grande, una chiesa che ora è perduta, non esiste più e probabilmente era poco distante da Sant'Ambrogio. Viene richiesta dalla confraternita dell'Immacolata Concezione proprio per festeggiare un dogma della chiesa. Il patrono di questa confraternita è San Giovanni Battista. Ve lo racconto perché servirà poi alla narrazione successiva. Ma insomma viene richiesto a Leonardo da Vinci di raccontare una Madonna che tiene un bambino e che è nell'atto di benedire San Giovannino, San Giovanni Evangelista. Chi di voi è un attento osservatore vedrà che nulla corrisponde a questa descrizione. Anzi, ne esce un racconto legato a un momento molto particolare della vita del piccolo Gesù Bambino, che è questo seduto qui, ovvero quando incontra il piccolo San Giovanni Battista. Ecco che torna la figura di San Giovanni Battista. Eppure non sono posti in modo canonico e non sono posti in modo, come dire, ancora quattrocentesco. È un passo avanti per tutta la storia dell'arte. Questo passo viene raccontato nel protovangelo di Giacomo, dove si legge che Elisabetta, la madre di Giovanni, seppe che Erode voleva uccidere tutti i bambini. Così prese il figlio e fuggì su una montagna. Guardandosi attorno e non trovando un rifugio invocò Dio e in quel momento il monte si aprì in una cavità e l'accolse e la luce vi traspariva per loro, perché presso di loro c'era un angelo del Signore che li custodiva. Ecco, raccontato in modo un po' breve, un po' asciutto, quello che è il nostro Leonardo immagina, ovvero un antro, un luogo segreto, un luogo chiuso all'interno proprio di queste famose rocce che danno il nome alla composizione. Eppure questa pala non venne accettata dai committenti, non fu mai posta nell'altare predisposto, anzi fu addirittura rifiutata e bollata come incompiuta. È strano, è strano da cogliere questa sfumatura, eppure qualcuno pensa che sia stata rifiutata per la sua particolare impostazione. Vedete che la Madonna è posta al centro e il San Giovanni Battista è posto addirittura in modo superiore al piccolo bambino, al piccolo Gesù bambino e l'angelo sta proprio indicando San Giovanni Battista, che è una cosa piuttosto curiosa, che non era mai capitato. Sostanzialmente il quadro sembra ruotare intorno alla figura del piccolo San Giovanni Battista e non attorno alla figura del piccolo Gesù. Sembra quasi dare più importanza all'uno che all'altro. E questo certamente non è stato, come dire, apprezzato dal clero. Inoltre, molto interessante, è la figura della Madonna, che sembra unire i due bambini e il Gesù bambino viene benedetto con questa mano in tre dimensioni. Guardate che meraviglia, eh? Sembra misurare lo spazio, darci la forza di questo atto. E dall'altra parte la Madonna sembra spingere il Giovanni, il piccolo Giovanni, verso il suo cuginetto, possiamo chiamarlo così. È interessante come questo enorme sfondo fatto di rocce che sembrano delle stalattiti, delle stalagmiti, che si rincorrono e lasciano filtrare pochissima luce, sembrano in realtà essere una enorme quinta teatrale, però è una prospettiva, diciamo, di un'architettura fatta di rocce. È un'architettura composta da grattacieli di rocce, possiamo dirla così. In fondo, lo tipico sfumato di Leonardo, che sosteneva che gli oggetti lontani dovessero essere più piccoli, questo è vero, è tipico della prospettiva, ma dovessero anche essere più sfumati. Chi di voi è mio, sa benissimo che gli oggetti lontani sono automaticamente sfumati, perché chi come me è, ahimè, mio. A chiudere tutta la composizione, addirittura un piccolo specchio d'acqua che attira, come vedete, tantissime piccole piante acquatiche. Questa è la seconda versione, qualcuno pensa che ci sia poco del maestro e molto dei De Predis, che sono dei maestri che aiutano Leonardo ad ambientarsi a Milano, eppure questa seconda versione probabilmente viene poi accettata dai committenti, proprio perché l'angelo non indica più il nostro San Giovanni e inoltre le sfumature sono meno accentuate, vedete che i colori sono molto più carichi, molto più decisi, molto più netti. Non si può definire certamente quest'opera incompiuta. Questa è, scusate, è sfumata perché in realtà non è della qualità sufficiente, ma volevo farvi vedere come forse doveva presentarsi il nostro, il nostro politico, una volta messo nella chiesa, con questi due angeli che sono dati a De Predis, proprio a quei maestri di cui vi parlavo prima, e al centro l'opera del nostro Leonardo da Vinci. Qui volevo farvi ancora notare questa forma piramidale che rientrerà poi in altri quadri, in altri dipinti del nostro Leonardo da Vinci, ma anche di altri grandi pittori, è uno su tutti, Raffaello Sanzio, uno qualsiasi per dire, e questa struttura piramidale certamente tornerà poi in altre sensazioni. Qui a confronto i personaggi principali e vedete come un certo senso di sfumato, ma anche la liquidità di certe soluzioni cromatiche del nostro Leonardo, siano molto più leonardesche in quelle del Louvre rispetto a quelle della National Gallery. L'ultimo accento vorrei porlo proprio invece sulla natura, sulla natura che sta intorno. Vedete che sono praticamente sovrapponibili e esprimono questo grande senso di quinta teatrale. Qualcuno ha fatto un passo in più, su questo io ve lo racconto, ma mi riservo di non essere d'accordo, pensando che il senso della roccia che custodisce tutto questo racconto sia in realtà una sorta di metafora per parlare del grembo materno che custodisce il Salvatore. E qui ci ricolleghiamo al motivo di tutto questo, ovvero l'Immacolata concezione. È chiaro che questa Madonna delle Rocce ebbe una fortuna incredibile e quindi vi presento quella di Marco Dogiono, che era un allievo che ebbe buona fortuna, ma a volte la fortuna di Marco Dogiono è più di nome che di fatto in questa riproposizione, ma se ne conoscono ben altre undici della Madonna delle Rocce. Pensate quanto fortuna ebbe e quanto influenzò poi l'arte a Milano. L'ultima opera che vi voglio rappresentare e presentare in realtà è l'opera conclusiva di tutto il nostro ciclo. È un'opera che mette insieme tutti gli elementi finora analizzati. È solo un matto, un matto vero come Hieronymus Bosch, poteva metterli insieme. Stiamo parlando del trittico del giardino delle delizie. Questo è il trittico chiuso e in effetti, visto così, è solo un dittico perché, come tutti i trittici, a volte poteva essere chiuso e una volta chiuso mostrava le sue ante esterne. Eccole. Hieronymus Bosch ci presenta un momento della creazione che corrisponde a quello nel quale Dio separa la terra dalle acque e dal cielo. Vedete questo enorme globo? Pensavo che fossero Toner oggi verrebbe criticato addirittura. E vedete che Bosch separa la terra dalle acque e dall'aria. È già tre dei nostri dei nostri elementi. Ma una volta aperto il trittico è una meraviglia. È un rincorrersi di personaggi, è un rincorrersi di sensazioni e situazioni ed è una grande, enorme allegoria dell'umanità. Vedete sull'anta di sinistra la creazione dell'uomo con Dio posto al centro che presenta ad Adamo, ancora un po' stordito perché si è appena svegliato e non ha ancora fatto il conto delle costole, che è una cosa fondamentale, gli presenta appunto la sua sposa. È un giardino dell'Eden, tutto immaginato dal nostro Ieronimus Bosch, è un tripudio di piccoli animali meravigliosi raccontati nei minimi particolari e l'acqua è pulita, è perfetta. Vedete, si abbeverano tutti insieme, sia le bestie che cacciano con quelle che devono essere cacciate. Là dietro un meraviglioso e irto spuntone di roccia ancora a aprire il paesaggio. Mentre l'anta centrale, quella più grande, che dà evidentemente il nome di Giardino delle Delizie, è un rincorrersi di piccoli personaggi che alla maniera di Bosch, quindi in un modo molto fantasioso, molto particolare, possiamo definirlo anche in modo un po' pazzo, compiono delle attività. Queste attività, a ben vedere, sono ludiche, possiamo definirle così, ovvero corpi nudi che si intrecciano e sono nell'atto di giocare con enormi animali, oppure nel cercare il piacere anche della gola. Qui, vedete, c'è un lago all'interno del quale ci sono delle vergini e queste vergini sono accompagnate dai corvi, i corvi sono il segno lussuria, e dagli ibis che sono il simbolo della fertilità. Intorno c'è un enorme carosello di persone che cavalcano diversi animali, addirittura il dromedario, il cavallo, la pecora, la capra, il maiale e quindi corrono intorno a queste figure centrali e anche essi sono naturalmente nudi. Questo è un racconto sì del divertimento, ma una grande metafora del degrado umano. Quindi l'uomo è stato creato in un giardino dell'Eden e ha trasformato questo giardino dell'Eden in un luogo di piacere, di delizie. A destra, l'ultima anta, ci racconta invece il destino che ci attende, insomma non tutti, spero naturalmente, ovvero il giudizio universale e l'inferno. Vedete, poi lo vedremo nei dettagli successivamente. Queste sono le due ante esterne, qui vi faccio notare ancora una volta questa fontana, che è la fontana della creazione, perché dall'acqua che nasce tutto, un grande ritorno all'elemento dell'acqua, così come l'elemento della roccia della terra si fonde insieme al tronchetto della felicità e questo è quello che abbiamo in casa o in ufficio, che noi chiamiamo tronchetto della felicità, in realtà è di queste dimensioni. Invece l'inferno, guardate che roba, il fuoco, il fuoco che devasta tutto quanto, che addirittura tiene in ostaggio gli uomini, un ostige nel mezzo che ancora simboleggia le pene dell'inferno e poi davanti vi farò poi notare alcuni particolari. Mentre l'anta centrale, eccolo qui, questo è il carosello attorno alle donne, è una enorme metafora della lussuria, della gola e dell'acidia. Vedete qui delle strutture in rocce, fatte di rocce, che il nostro Bosch immagina nella sua mente. Qualcuno pensa che Bosch vedesse davvero queste cose perché fosse vittima di un parassita del grano che colpisce la segale cornuta e quindi vedesse queste immagini davvero. In realtà alcuni altri pensano che il suo livello di cultura fosse talmente alto e la sua immaginazione fosse talmente particolare che riuscisse a vedere nella propria mente questa unione di natura, animali e uomo. Alcuni particolari, questi sono i castelli di rocce che ha inventato Bosch e che ha piazzato laggiù in fondo con delle vergini, delle vestali che si tuffano nell'acqua, dei tritoni e delle sirene che giocano insieme con gli uccelli che volano e qui invece sul fronte vedete delle figure umane, sempre nude, che giocano con degli uccelli. L'uccello è il simbolo della lussuria e quindi in un certo senso l'uomo e la natura lavorano insieme, si uniscono insieme per creare piacere dall'uomo. Questa è una delle possibili chiavi di lettura di Bosch. Questa è sempre legata alla parte centrale, guardate che frutti che mangiano i nostri lussuriosi, guardate un frutto di bosco enorme e luoghi dove si possono incontrare che in realtà sono fatti come degli insetti e questi insetti che attanagliano l'uomo e la donna per farli conoscere, per farli incontrare anche a livello di piacere. Questa è una visione dello sfondo, guardate con che precisione millimetrica il nostro Bosch, mette insieme di nuovo l'elemento delle nuvole, della luce, dell'acqua e della terra. Vedete il sincretismo di tutti quanti gli elementi che abbiamo fino ad oggi approcciato e immaginato. Guardate questo numero elevato di persone nude che entrano all'interno dell'uovo, probabilmente anche questo simbolo dell'unione carnale, dell'uovo come sincretismo appunto fra uomo e animale. Guardate un altro grande frutto di cui si cibano, l'uccello rovesciato fa sempre parte di quella grande allegoria, dove uomini giacciono con uomini e donne con donne. Questo sembra un primordiale uovo all'interno del quale c'è un Adamo ed Eva quasi extraterrestri, quasi lunari, mentre il simbolo della civetta, che come abbiamo detto essere un simbolo dell'oscurità, del male, domina all'interno della scena. Ma l'inferno è certamente il luogo assai più curioso per il nostro Bosch, che ci regala una figura che l'ha sempre affascinato, ovvero l'uomo albero. L'uomo albero è chino e nel suo ventre ci sono degli uomini e delle donne che sono seduti come in una taverna. È la legge del contrapasso per i golosi. Chi dall'altra parte mangiava quelle enormi fragole e lamponi e insomma finisce all'osteria dell'inferno, sostanzialmente. E vedete questi diavoli a forma di uccelli che prendono per mano gli uomini per poi portarli alla pazzia. Vengono portati alla pazzia da questo stomaco che in realtà diventa un'enorme tromba e viene suonata da questo spirito proprio sulla testa, nelle orecchie della nostra malcapitata. E qui, eccolo qui, guardate che bello questo simbolo. Per il nostro Bosch, eccolo qui, l'inferno non è altro che due orecchie che vengono trafitte da una grande lama. Quindi un concerto stonato è l'inferno secondo Bosch, secondo molti. anche. E quindi eccolo qui, un'altra zona dove continua questo concerto infernale dal quale escono, vedete, un uomo trafitto da un flauto, così come esce da questa lunga tromba un'altra figura. Oppure un uccello che ingoia delle persone e queste vengono poi depositate all'interno di un imbuto e questo imbuto non è altro che il loro contrappasso per la vita smodata che abbiamo visto nel pannello centrale. Questa è l'ultima scena che vorrei farvi vedere, sempre legato al mondo di Bosch, è sempre legato all'unione fra il fuoco, l'acqua che arriva in questo grande imbuto, e la terra che custodisce l'inferno. Bene, con la speranza che nessuno di noi finisca l'inferno, con la speranza che tutto questo lungo ciclo vi abbia appassionati e vi abbia, come dire, aiutati ancora di più nella comprensione dell'arte, volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato in queste cinque puntate al nostro ciclo di appuntamenti. Prima di tutto Paola Campassi, Roberto Gnavi nella presentazione della prima volta con le loro rispettive associazioni e questa sera Simone Mattiello della Galleria Bertone. Per voi ha parlato dell'associazione, all'interno dell'associazione per voi ha parlato il presidente Paolo Berruti, Jennifer Celani, Antonella Contardi e Ludovica Matarozzo. Finalmente il nostro Giorgio Prato si è buttato e addirittura ha parlato per voi due volte ed è sottoscritto. Per darvi alcune coordinate sono state girate e sono state consegnate a YouTube tutte le puntate, questa verrà consegnata a breve, per un totale di sette ore di arte. E all'interno di queste sette ore sono state presentate circa 65 opere. Bene, con questo io mi taccio. Volevo ancora ringraziare tutti quanti voi per la pazienza. In primis Feliciano della Mora che è anche un presidente, oltre a essere il nostro tecnico di riperimento, ma anche il presidente di Univo e non potevo che ringraziarlo e ringrazio soprattutto Gabriella che vedrà questo filmato domani in fase di montaggio. Volevo ringraziare tutti quanti voi, siamo partiti in tanti e siamo arrivati in tanti e quindi rimanete al sicuro, rimanete alle vostre case con la speranza di rivederci quanto prima. Grazie a tutti, buona serata.